Ok, prima domanda, posso mangiarmi? No, Tom, non puoi mangiarmi! E se ti dessi un cappello? Morirò se mi mangi! Seconda domanda, perché sei una torta? Ho insultato un mago. Hanno dei cappelli puri. È quello che ho detto io! Quindi, mi aiuterai? Sì, allora... Mettimi giù! Scusa, scusa, è che sei così delizioso e... Aspetta, forse la scienza l'ha risposta! A calcoli fatti sembra che l'unica cosa che possa fermare è un incantesimo, un alto dosaggio di potassio e cloruro di sodio. Sostanze comunemente presenti nei succhi e gastrici. Oh mio Dio, Ben! Entra nella mia bocca! Smettila di cercare di mangiarmi! Ehi, una torta! Posso averne una fetta? Certo. No, ferma, Catherine, sono io, Ben! Ben è una torta. Già. Hai di nuovo insultato un mago? Già, e non vuole che lo mangi! Sul serio? Gli hai offerto un cappello? Sì! Strano. Ragazzi, per favore, non voglio più essere una torta! Ok, e se il mago volesse insegnarti qualcosa? Vuole insegnarti una lezione di vita. Che tipo di lezione? Ben, non sei molto generoso. Già, sai, un amico generoso mi lascerebbe mangiare la torta! Il tuo amico è la torta, Tony! Sei un bugiarto! Aspetta, ci sono. Perfetta. Mi hai solo messo degli occhi finti. Beh, almeno assomigli a com'eri. Ah, Ben, si è tornato. No, sono ancora una torta. Altre idee brillanti? Vado a fuoco e sono ancora una torta! Ok, ok, ok. Ci penso io. Ora ho solo un cappello in testa. Non stai male. Per niente male. Posso mangiarti ora? No! Sentite, avete una minima idea di come farmi tornare umano? No, no. È quello che stiamo cercando di fare. Bene. Allora resterò per sempre una torta. Sì, sono io! Diamine. Sì, sono io! Il mago che ha trasformato il vostro amico in una torta! E se voleste liberarlo, cari sapientelli, dovrete risolvermi questi tre indovinelli! Numero... Oh! Oh! Merda! Sono umano! Oh, hey Ben! Hey Ben! Dov'è finita la torta? Come sape... Come sapevi che prenderlo a pugni mi avrebbe fatto tornare? Cosa? No, è solo che ho due i maghi. Aveva un cappello buco. Già, è quello che ho detto io. Batti il 5A. Oh! Dov'è il mio braccio? No, era soltanto una fetta. Ah! Tom! Dov'è il mio pene? Ok, ho mangiato due fette! Chegno di putt**a! C'è un pisello in me?